Ok, ciao a tutti ragazzi, sono Daniel e benvenuti in questo prossimo episodio del survival games Siamo qua nella mappa Valleyside University Volevo fare un video senza fare la parte prima Insomma, iniziare subito dalla mappa E chiedo scusa se non sto riuscendo a caricare tantissimi video Ma un po' di... insomma, devo impegnarmi nello studio Quindi non è che penso subito a YouTube Oh, stronzo, bastardo, 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 bastardo No, ci sono uccisi dietro Non perché io vado male a scuola, anzi, ma vado molto bene a scuola Però, insomma, comunque bisogna sempre impegnarsi Se no, non si va più bene Allora, tu non hai niente, io ho però un'arma qua E ti potrei uccidere Oh yes Però, tranquilli che i video torneranno regolari Uno ogni due giorni, più o meno È garantito Poi cercherò di farlo uno al giorno Di farne uno al giorno Cosa importante Spero... è un po' stupido dirlo adesso perché probabilmente muoio Però, comunque, sto per iniziare una serie Con Zetalex, a questo punto lo dico L'avevo già detto un po' di tempo fa, ma comunque lo dico adesso Sul FTB 1.6.4 Zetalex In coppa, in cooperativa Sarà una serie Dove delle volte giocheremo insieme Ma il più delle volte Giocheremo singolarmente Quindi alla fine sarà comunque una serie singola Giocherò delle volte con Zetalex Nel senso che sono nello stesso server Ma comunque A che tra l'altro il server è suo Cioè perché lui riesce a starlo È una collezione buona E... ma comunque Non farò Video con Zetalex sempre Anche perché nel server ci sarà una terza persona Che è Tom Che lui non ha un canale YouTube Tom è, vabbè, ovviamente Sapete tutti chi è È l'altra persona che fa video con me Che non fa video con me da un po' Però comunque È vicino a me Quindi comunque Ci sentiamo E... Tom sarà sempre Sarà nel server con noi E... Quindi Saremo nel server Io, Tom E Zetalex Ovviamente giocheremo Se riusciamo a beccarci Giochiamo insieme Se no niente Ognuno si fa i suoi impianti Poi vabbè C'è, c'è, c'è Ci aiutiamo a vicino ovviamente Perché comunque noi siamo bravi Tutti e tre più o meno nell'FTP E... niente Comunque Alla fine Facciamo Insomma giochiamo Sarà una serie single player E... Come concilierò i video E... Allora farò Su Ravel Games È sempre la mia serie principale Quindi comunque io Cerco di caricarlo uno al giorno Di caricarlo uno al giorno Adesso lasciate stare questi due o tre giorni Quindi sto caricando pochi Ma comunque Ne caricherò uno al giorno appunto Più o meno cercherò E se non riesco Su Ravel Games Perché può essere Che semplicemente Non è che non riesco a caricarle Ma non riesco a registrarle Una buona Metterò Civilization Che è una serie un po' cuscinetto Diciamo che è da uso per Ehm Insomma Ne registro due o tre episodi E li spartisco in due settimane Perchè comunque Non è una serie molto seguita E' una serie semplicemente così Che la tengo Perchè mi piace farla appunto Non perchè la seguite voi Ehm Comunque Ehm Questa nuova serie Che non so come si chiamerà Ma forse Vabbè FTB 1.6.4 Ehm Questa nuova serie La farò Magari Potrei fare una cosa di questo genere Due giorni su Ravel Games E un giorno questa serie E ogni tanto Ehm Non carico Survival Games E carico Civilization Perchè questa serie Non la giocherò tanto Cioè per senso che Ehm A me le cose survival Piacciono fino a un certo punto Quindi non Non la giocherò tanto E Ne caricherò po' E caricherò po' E pochi video Ok Ho sentito una cosa brutta Nel mio orecchio Oddio Nei miei cuffie Mi stanno tipo Spaccando No non è che stanno spaccando Si stanno Ehm Fappando Insomma il suono E niente Ditemi che ne pensate Nei commenti Di questa nuova serie Sto trovando solo L'armatore di merda Comunque una serie Anche così Per passare il tempo E perchè comunque Mi piace la FTB Ehm Insomma niente Adesso Giochiamo la survival games Ovviamente non sto commentando Molto la survival games Ma non c'è molto da commentare Perchè E' una cosa monotona Abbastanza Perchè c'è sta cosa Cosa mi serve Ok Allora Potrei fare un accendino Però vado a farmi La spada di ferro Più che altro Sto trovando Nell'armatore di men Sto trovando 20 miliardi di chest Zero armature Buona Ehm Il gioco è iniziato da Il video è iniziato da Ehm 4 minuti e 45 Dovrebbe Oppure 55 Non lo so Comunque Perchè Si lo so Lo sto impazzendo No forse un po' di meno Perchè si Non ho iniziato ai 30 secondi Del match Del Cosa iniziale Ok sono pazzo Basta 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 Perchè mi metto a contare i secondi Ok potrei farmi altre frecce Visto che a sto punto Ho tantissime Frecce Potrei puntare su quelle Perchè Ne ho 20 Ho un arco Posso farmi tante frecce Devo andare a mangiare Perchè sento mia mamma Che sta preparando LOL Vabbè tanto Muoio prima Quindi Comunque questo video Lo caricherò di sicuro Perchè Dico Quello Questo abito importante Che Mi serve Mi raccomando Seguite la serie Ovviamente sarà un po' Anche con Z Alex Wow Stronzo di merda Morto Grandissimo La freccia Mi ha aiutato un casino LOL Avete visto Che è utile la freccia La freccia Mi ha aiutato un casino Veramente Non era molto bene equipacciato Però aveva una spada di ferro Quindi questo Mi consente di fare L'accendino Che lui già aveva Ma non mi sembra Che avesse Tutta la vita Ragazzi Anche se l'ho preso Con la freccia Cioè perchè Gli ho dato due spadate E una frecciata Quindi non mi sembra Che sia Che era pieno Forse gli mancavano Due o tre cuori Perchè di solito Non è che Perdi subito vita Così Mi serve Un posto Un attimo Dove buttare Ste cose qua Il film Il film sarà perfetto Non le vede Nessuno qua E Questo però Mi serve Tra l'altro Sto migliorando Anche Con l'accendino Perchè Tipo Basta No scusate Basta Fare Tipo una Riga di Di fuoco E Quella Brucerà sicuramente Ok ragazzi Non stiamo messi malissimo Purtroppo L'armatura Fa schifo Dovrei migliorarmela Però A livello di armi Cioè Stiamo messi Quite good Diciamo Abbastanza bene Quite well Dovrei dire Perchè Cioè Un casino di frecce Potrei usarle tanto Cioè tipo A manetta Quelle le devo usare Anche perchè Il server lagga di me In questi giorni Quindi Usiamolo Cioè Cazzo Abbiamo le frecce apposta Peccato davvero Perchè ho trovato Tantissime ceste Senza trovare Una Buona armatura Questa qua Non l'ho già presa Ho paura Che mi segua Sempre qualcuno Sono tipo Ossessionato Da questa cosa Da qua si può entrare Non si può entrare Da qua Bene Spero che Frappi Stia registrando L'audio Del mio microfono Se no Sono davvero Incazzato Perchè ho fatto Un bel video Finora Mi piace Più tanto perchè Ho detto Quella cosa lì E non voglio Rifarlo Come una merda Vabbè Non mi serve Questo Dai Mi serve Un'armatura Buona A me Non Un'ascia di legno Ste cazzate qua Dai Cos'è Questo qua È rotto Cioè È impossibile Ad aprire Scommento che Era l'unica Cessica Con tema Cos'è buona Però forse È avuto un dubbio Non è che sopra Tipo c'è una leva Eh ma che Che schifo Che fa Fa appare Le frecce bene Mettiamoci il cibo buono Però dai Sotto Se no Cazzo Guardate Sto trovando Un casino Di armature Ma tantissime Ne sto trovando I raw chicken Li butto Perchè Fanno schifo Ne sto trovando Tantissime Di armature Cioè tipo Ma quante ceste Avrò trovato In questo cosa Trenta Io non ho Un'armatura buona Perchè Tutta armatura Di pelle Trovo Tutte Cioè in una partita Avevo trovato Tipo in due ceste Armatura full iron Quasi No forse era full iron Con il coso qua Di chain In questo qua Trenta ceste Neanche Un pezzo di iron Guardate Ma è una maledizione Non è che In questa mappa Sono peggiori Le ceste Perchè magari È così Cioè a me non sembra Comunque Non è che Io mi ricordo Che comunque Valle 6 di university È una mappa Che gioco abbastanza Spesso Non mi sembrano Così schifose Le ceste Vabbè Peccato Perchè non stiamo A messi in mano Perchè se fossi Full iron Avrei due accendini Un casino Di frecce E l'arco E una spada di ferro E full iron Invece purtroppo Ho una Un'armatura Da schifo E quindi questo Mi rallenta E ci sono solo Tanto 6 giocatori Peccato Davvero Magari Trovo altre ceste Però non è che ce ne sono Più di tanta adesso Guardate Non ne trovo Una buona È assurdo Tutte Cazzate Merdate Che non mi servono Una minchia Mi fanno un po' male Gli occhi È venerdì oggi Quindi Sono contento Spero davvero che Ho paura davvero che Guarda Che farà Che farà se non mi registra Il microfono Perché se non mi registra Il microfono Mi sto incazzando Mi sto incazzando In questo momento Anche Se me lo dovrebbe Sta registrando Sì no Me lo sta registrando Non trovo niente Questa è la Direttrice Direttrice di oggi Cioè andate Allora Se volete No vabbè dai È un po' Ah no Allora Facciamo una cosa All'inizio del video Metto un avviso Che ho scritto Contate quante chest Ho aperto dall'inizio Cioè proprio contatele Perché ora Ora è inutile E ora che le avete contate Cioè nei commenti Ditemi Quante ne ho prese In tutto ovviamente Anche Questa qua vale Cioè sono davvero curioso Di vedere Tanto Comunque non è che Dovete andare indietro Con il video Perché Ve l'ho detto io All'inizio del video Ma che cazzo Ma non è una chest Buona Ma Cristo No allora ragazzi Cazzata Metterò una specie Forse Se Ho voglia di editare il video Ma sì tanto Me lo devo rivedere Quindi Quando lo rivedrò Metterò in basso A testa Tipo Contatore di chest Che ho aperto Perché ne ho aperte tantissime In questo server Questa mappa E non trovo niente Cioè è assurdo Non ho trovato Una cosa buona Di 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 ferro A sto punto Andrò lo spawn Però Cioè non lo so Perché ora Rifilano le ceste Davvero io Vorrei Che mi No allora No no Lo faccio io ragazzi Scher Metterò una cosa Se non lo faccio Eh no Se non lo faccio niente Perché purtroppo ora Voi non è che Non posso costringermi Andare dietro nel video Magari metto Un'annotazione Insomma vabbè Poi me la caverò Comunque Vorrei Mettere una cosa Che dice quanto c'è Sto aperto A sto punto Una cosa buona Sarebbe prendere Qualche Buon armaturato In Controtempo Bombardarlo di 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 frecce Insomma Poi ucciderlo E comunque Prendere E prendere La sua armatura A sto punto Sarebbe buono Però Cavolo Cioè ragazzi Io faccio una stima Di quante ne ho aperte Ora Poi le conterò Durante l'editing E metterò il coso Però io Ne ho aperte Circa 30 Cioè A me sembra così Non è che Spostano Guarda Ora che Che mi servono Guarda Cristo Ora che Allora Una cesta qua E non c'è un cazzo Dentro Ma è una cosa assurda È una perquisizione Cioè una Non perquisizione È una Maledizione Cioè è una cosa assurda Davvero Assurda Dovrei andare Al campo di Di pallavola Di basket Qua c'è qualcosa Sotto No No non ci posso credere Cioè davvero Non sto trovando Una cesta buona Cioè è assurdo Ma come cazzo faccio A vincere una partita Senza No cosa faccio Cosa faccio Dai fuori 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 Dai ora che mi servono Le ceste Cioè mi sono sempre servite In realtà Però comunque Ora che Voglio averle Guarda Non mi sa che No allora forse È proprio un bug Cioè È proprio Questa mappa Che Cioè questa partita qua Che è buggata Non mi trova le ceste Perché non ho trovato Un singolo Elemento di ferro Neanche uno Cioè è una cosa Assurda In realtà Se non fosse stato Per quello lì Che ho ucciso Non avrei trovato Neanche L'elmo di chain Che ho Quindi cioè pure Non ho trovato Proprio niente Assurdo Proprio niente Ma come cazzo si fa Cioè sto Resistendo un bel po' Però cazzo Ah Le mie cose Guarda Cioè ma Guarda ma si può Qua è dove prima Ho buttato tutto L'armamentario No ma assurda Sta cosa Il problema è che Ora se Se trovo ora Qualcosa di ferro Potrei anche Incazzarmi Perché Vuol dire Che ci sono Io Potrei essere convinto Che non ci sono In questa partita Cioè ma Una roba No ma No ragazzi Ora Cioè voi siete Testimoni Adesso io non so C'è il counter sotto Però avete visto Quante ceste sto aprendo Si Cioè Una quarantina Ne ho aperte in tutto Ma neanche questa Ma porca merda Cosa assurdo Mi sto scandalizzando io Vabbè Andiamo avanti A cercare altre ceste Con L'armatura Magari Controllo l'armatura Guarda Quello lì è full iron Guarda Sono due full iron Però Si stanno combattendo Quindi potrei fare una cosa figa No Lasciamolo stare Che full iron Si incazza Cioè Quello lì è full iron Cioè stai scherzando Io non riesco a trovare le ceste Quello lì è full iron Io non riesco a trovare le ceste Ma porca merda E valercio Sudicia Ma porca Ma guarda No è assurdo Cioè Non sto trovando Una di ceste buona Cioè ora 57 frecce ho Io potevo capire All'inizio Ma adesso no Guardate Questa è bloccata Andiamo là Sotto il canestro Cioè ora c'è Sì Ma dov'è Eccolo qua No Ma no Ma è assurdo Guarda Una cosa allucinante Vabbè Una delle partite più sfigate Che ho mai Chi abbia mai giocato Cioè io questa qua La devo mettere su youtube Assolutamente Cioè guarda Ci metterò un casino Perché è lunghissimo Però bisogna Guarda No ma non vuole Non vuole Cioè non Non mi arriva Non punte e basta No è assurdo No è assurdo È assurdo sta cosa Neanche una Neanche una Guarda Quanto adesso Aprendo Ne avrò aperte Sessanta Ma stai scherzando Eh ora Le grida Di qui di sotto Boh vabbè Female me Ah l'ho il bagno Neanche nel cesso Riuscirei a trovare Qualche cesso Vabbè Guarda Questa qua Neanche questa Light switch Per le luci No c'è ormai ragazzi Cioè che poi ragazzi La cosa brutta Che non è che Trocesto vuote Proprio senza Senza armature C'è assurdo Senza armature di ferro Ma quante Ma quante Ma quante c'è C'è stato aperto Oggi Cioè voi avete visto Madonna Cod'è già Ecco ora Che Oh Fermo 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 Oh Oh merda Bastardo Aspetta 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 Bisogna vincerlo Questo Anche se 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 impossibile Vabbè Ho fatto un po' di cosa Ho fatto un po' di Di casino Ma erano in Trenti In team Vabbè Ma no ma Vabbè Vabbè Ho perso contro uno Ma comunque È una cosa assurda Non ho trovato una chest Vabbè 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 Vabbè